Buongiorno, sono Giampaolo Pasolini dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un'ottima Toyota RAV4 2000 D4D dell'anno 2003, vettura con 228.000 km percorsi, alcuni segni da parcheggio, ma in buone condizioni meccaniche, con frizione e volano già sostituiti. L'auto è un top di gamma, quindi monta 4 alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata con comando a distanza, climatizzatore e servo sterzo. Mostro anche le condizioni interne, che sono veramente ottime per il chilometraggio percorso, infatti anche i sedili sono veramente in ordine. Vado a mostrarvi, eccolo lì, il chilometraggio 228.000, abbiamo autoradio CD, climatizzatore manuale, cambio meccanico, 5 rapporti. Poi ha il bracciolo, ecco il comando dei quattro alzacristalli elettrici. Vado a mostrarvi il divano posteriore per chi alloggerà dietro, tutto realmente in ordine, come pure il vanno portabagagli. I sedili, naturalmente, posteriori, sono frazionabili e abbattibili separatamente. Questa vettura è in pronta consegna, ideale anche per l'export. Vi aspetto a Gussago, in provincia di Brescia, per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.